Poracci siete pronti per la prima poratona? Ci vediamo fra pochissimo sul sito Viola alle 14.30 per una lunghissima live dove scopriremo insieme il gameplay di leggende Pokémon Arceus senza filtri. Io sono fomentatissimo e non vedo l'ora di provare uno dei giochi più controversi del 2022. Vi aspetto, non mancate! Per quanto riguarda solo risposte sbagliate grazie al potere di Lens, in molti avete riconosciuto Racing Lagoon, quella che fino a qualche mese fa era una semi-sconosciuta esclusiva PS1 mai uscita dal Giappone. Quello che commenta è stato il più veloce anche se ha modificato il commento. Non si fa, la risposta più bella è di Emac che scrive Fortnite. Semplice, essenziale e sbagliatissimo, così mi piace. Va bene, andiamo avanti, di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi! Coracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi a qualsiasi orario. Quella di oggi sarà una puntata velocissima, perché sono in ritardissimo, quindi vanno alle ciance. Oggi parleremo di un ritorno totalmente inaspettato di una vecchia e dimenticata icona di platform. Di brutte notizie riguardanti Metroid Prime 4 e del primo trailer di gameplay di UFL, la nuova simulazione calcistica che si pone l'obiettivo di rivoluzionare il mercato. Prima di iniziare però vi ricordo che l'avanzata poraccia è inarrestabile e la conquista non violenta di YouTube Italia è già in atto. La fondazione del poroverso è solo questione di tempo. Quindi diventate parte attiva di questa ineluttabile visione di futuro. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle protifiche e seguitemi sul sito Viola. Vi aspetto. Trovate in descrizione tutti i link necessari. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Bene, partiamo con qualche notizia al volo. Ieri, mentre eravamo impegnati a discutere sulle recensioni di Arce, Guerrilla Games ha pubblicato il primo gameplay di Horizon Forbidden West nella sua versione per PlayStation 4. È molto apprezzabile lo sforzo di Guerrilla Games nel cercare di portare avanti, con quanta più trasparenza possibile, la comunicazione su questa importante produzione cross-generazionale. L'intento è chiaramente quello di evitare una situazione disastrosa alla Cyberpunk 2077 e dai primi risultati sembra che il team di sviluppo sia riuscito a confezionare una versione dalla resa grafica impressionante, nonostante qualche palese compromesso rispetto alla controparte next-gen. La comunicazione è limpida, la versione PS4 non solo sarà una degna edizione, ma in più la conversione non ha limitato le potenzialità del titolo sul PS5, che sulla piattaforma più recente riuscirà a dare il meglio di sé. C'è solo un piccolo dubbio. Le immagini mostrate sono state catturate su PS4 Pro e la versione base di PlayStation 4, come gira? Speriamo di non avere brutte sorprese al Day One, previsto per il 18 febbraio. E a proposito di febbraio e brutte sorprese, Sony ha annunciato ufficialmente quali saranno i titoli inseriti all'interno del PlayStation Plus e questa volta, purtroppo, ci troviamo di fronte a una selezione abbastanza scadente. Il roster sarà composto da UFC 4 per PlayStation 4, Planet Coaster Console Edition per PS5 e Tiny Tina Assault on Dragon Keep, sempre per la old gen. Per carità, non si tratta di titoli da buttare, ma manca chiaramente un nome di richiamo per rendere l'offerta appetibile a un vasto pubblico. E come tempismo direi che non è dei migliori, visto come si sta muovendo la concorrenza. Speriamo che questo scivolone sia in vista di un imminente rinnovamento di tutto il servizio. Dall'altra parte della barricata, invece, secondo Jeff Grabb, Xbox starebbe lavorando per sviluppare in esclusiva un clone di Monster Hunter da aggiungere al catalogo del Game Pass per diversificarne l'offerta. Il progetto sarebbe stato affidato a Certain Affinity, uno studio di supporto che ha partecipato in passato allo sviluppo di diversi Call of Duty, Halo, Left 4 Dead e Doom. Fanno ridere però le motivazioni che ci sarebbero dietro a un gesto del genere. Per Grabb, portare direttamente Monster Hunter sul pass costerebbe troppo a Microsoft, cioè agli stessi che hanno appena investito 70 miliardi di dollari per acquistare Activision. Forse Phil Spencer si fa un po' troppo trascinare dagli acquisti compulsivi. Ma passiamo alle notizie del giorno e questa è totalmente random. Da amante dei platform in 3D non posso che essere estremamente felice della seconda o terza giovinezza che il genere sta vivendo negli ultimi anni. Recentemente abbiamo visto il ritorno di tutte le mascotte anni 90, anzi di quasi tutte, perché mancava ancora lui. Keio The Kangaroo. Alzi la mano chi si ricordava di questa storica icona dei platform. Nessuno? Ecco appunto, è proprio per questo che la notizia ha fatto molto scalpore quando Nintendo America ha deciso di ritwittarla dal suo account, un profilo che solitamente viene utilizzato per pubblicizzare solo le produzioni di punta. E invece questo spazio è stato occupato da Keio The Kangaroo, icona latitante dal 2005 quando uscì in esclusiva PC Keio The Kangaroo Mystery of the Volcano, il terzo episodio di una serie che aveva visto i suoi albori nel 2000 su Dreamcast e PC. Io mi ricordo solo la copertina del secondo titolo che uscì anche per PS2 e Gamecube Xbox, ma non ho mai giocato a questa produzione, che a quanto pare fu considerata come discreta dalla critica. Ora la serie è pronta per ricominciare da zero con un reboot che sarà portato avanti da Tate Multimedia, lo studio polacco che si è occupato di tutti i precedenti titoli della serie. Il gioco uscirà quest'estate su tutte le piattaforme, e che vi devo dire, sembra estremamente interessante, anche se la palette cromatica e l'artstyle ricordano un po' troppo da vicino Crash Bandicoot. Speriamo non si tratti di un titolo eccessivamente derivativo, ma io difficilmente riesco a dire di no a un platform in 3D. E voi poracci, avete dei ricordi legati a Keio The Kangaroo? Ci sono finalmente degli aggiornamenti riguardanti Metroid Prime 4, purtroppo però non si tratta delle buone notizie che tutti quanti stiamo aspettando con impazienza. Vediamo di cosa si tratta. Retro Studios ha di nuovo rotto il silenzio sui suoi profili social, ma anche questa volta per dare una comunicazione che oggi non mi sarei mai aspettato di leggere. Lo studio sta ancora assumendo nuove personalità all'interno del suo organico per lavorare proprio su Metroid Prime 4. Il fatto è che le due posizioni aperte sono in realtà dei ruoli fondamentali nello sviluppo di un gioco, che solitamente sono tra le figure chiave che pongono l'ossatura su cui si baserà tutto il team lavorativo. In realtà non possiamo ancora parlare di un progetto alla deriva, in fondo i lavori sono iniziati solo tre anni fa e siamo ancora nel cuore di un ciclo di sviluppo di una produzione imponente che richiederebbe in ogni caso intorno ai cinque anni di lavorazione. Ma se da dicembre 2020 gli unici due annunci del team sono stati per assumere nuovi membri e ancora non sappiamo nulla del gioco, neanche uno straccio di trailer, la paura che qualcosa stia continuando ad andare storto nello sviluppo di Metroid Prime 4 è purtroppo molto grande. Voi poracci cosa ne pensate? Siete preoccupati da questi segnali di Retro Studios? E chiudiamo parlando di UFL, il simulatore calcistico che con molta ambizione punta a scalzare dal trono delle simulazioni sportive FIFA, che a conti fatti ormai regna in contrastato. E il gameplay reveal di ieri sera ha emozionato un po' tutti, perché a conti fatti abbiamo tra le mani una produzione dalle grandissime potenzialità. Io ancora ci soffro per la pessima figura che ha fatto Konami nell'uccidere il brand di PES per proporre i football, una delle più grandi figuracce mai viste nel mondo calcistico. Quindi l'entusiasmo che c'è dietro UFL è anche figlio di questa delusione. La produzione, che a questo punto, visti gli sponsor e i testimonial che ci sono dietro, non possiamo più chiamare indie, si pone l'ambizioso obiettivo di rivoluzionare il settore calcistico, inserendosi nella strada tracciata dai football con un modello commerciale improntato sul free-to-play in continuo aggiornamento, che abbandonerà il classico reset annuale tipico di FIFA. Vi invito a recuperare la presentazione sul canale ufficiale di Strikers o il riassunto che ho fatto per Every Eye, perché in potenza ci troviamo di fronte a un prodotto che veramente può ambire a degli ottimi risultati. Dico in potenza perché in realtà del gameplay si è visto ben poco, ma gli sviluppatori sembrano avere in testa le idee ben chiare su come confezionare un titolo partendo dalle esigenze e dai desideri della community. Voi cosa ne pensate delle ambiziose promesse di UFL? Sarà la nascita di una nuova era, quella del fair-to-play, oppure la realtà della produzione finale sarà ben diversa da quanto mostrato ieri sera? E questo poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a fra pochissimo sul sito Viola per la prima poratona incentrata su leggende Pokémon Arceus oppure a lunedì per un nuovo video. Voi mi raccomando, in ogni caso, riposatevi, fate i bravi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Por Arce, Michele Arce, ciao, Arce, ciao. Ehi, fermo, se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi può aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! E questo Poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo... Grazie a tutti!